ciao ragazzi a vittorio è stata una giornata abbastanza lunga per me non sono riuscito a fare il video delle due quindi cercherò questo video di riassumere le cose che volevo dire anche nel video dell'ora di pranzo vi ricordo ovviamente di iscrivervi a fantacalcio metterò il video in cui parlo del fantacalcio nella scheda quindi andatelo a vedere iscrivetevi ho già visto che molti si sono già scritti per cui ci sarà da divertirsi ci sono tante cose di cui parlare oggi vorrei iniziare dalla lista che la lazio ha consegnato per l'europa league ho già fatto il video sulla lista della serie a quella dell'europa league come mi ha scritto qualcuno ci sono le differenze perché non ci sono vavro e adamonis qualcuno mi chiede come mai non c'è vavro vavro non c'è perché le liste europee sono diverse ci sono raul moro e luca romero e quindi si è fatto sposto a vavro e adamonis luca romero e raul moro sono nella lista normale non nella lista b perché nella lista nella uefa per entrare nella lista under 22 bisogna non solo avere meno di 22 anni ma aver giocato almeno due anni nella stessa squadra luca romero arrivato questa è stata ovviamente non ha fatto due anni però un muoro ve lo ricorderete arrivò ad agosto ma fu tesserato solo a fine novembre e quindi ad oggi non ha fatto due anni completi alla lazio per questo è stato inserito nella lista a e a fargli posto sono stati vavro e adamonis vavro perché è stato aggiunto nella serie a nella lista serie a perché mancava un posto adamonis perché tanto nella lista b è stato aggiunto furlanetto e farà il terzo portiere in europa like europa league è importante sottolineare come sarri abbia preferito mettere luca romero e raul moro nella lista di europa league piuttosto che vavro segnale importante un segnale di rottura verso il passato perché lo scorso ci ricordiamo tutti un paio di anni fa che pedro neto fu escluso dall europa league da simone zaghi perché pedro neto era la stessa situazione di raul moro non ha fatto due anni alla lazio quindi zaghi preferì togliere dal pedro neto che rinunciare a un'altra riserva con sarri è completamente diverso e la cosa mi fa molto molto piacere altra cosa importante perché nella lista dei 25 da serie a vi abbiamo detto che ci sono solo tre tessini chi sai mauric e l'alzari bene uno dei motivi per cui sarri non ha chiesto altri tessini è perché probabilmente credo io proverà radu tessino sinistro la cosa è già avvenuta in questi giorni e quindi se i sai dovesse avere problemi e radu giocherà tessino sinistro e risolverà il problema diciamo esterno sinistro io speravo nel recupero di falbo per esempio ma giocatore ancora fuori rosa durmisi luca con non sono stati inseriti in lista e quindi è radu il vice chiamiamolo così isai sarri lo sta provando in questi giorni in realtà in questi giorni sta provando radu a sinistra e patrick a destra con i difensori centrali luiz felipe e vavro la soluzione di emergenza ripeto radu ha fatto il tessino nella difesa 4 con delio rossi può tranquillamente farlo con maurizio sarri per cui evidentemente queste saranno le soluzioni di emergenza maurizio sarri poi parliamo un po di ciro immobile con la nazionale perché ancora una volta ciro immobile non ha segnato non ha fatto bene è anche vero che si è andata a vedere la partita ciro immobile ha avuto un'occasione del primo tempo e basta perché perché enrico chiesa è un attacca è un esterno attacco egoista se volete è uno che non fa assist ma va alla conclusione si è andata a vedere enrico chiesa insieme hanno tirato in porta molto di più di ciro immobile si è andata a vedere il gold in chiesa e su assist di ciro immobile in nazionale ciro immobile è più assist man perché viene servito poco e libera gli spazi per chiesa che invece non fornisce assist a ciro immobile e questa differenza perché immobili nella lazio segna perché felipe anderson e pedro neto fanno assist per ciro immobile in nazionale chiesa non passa la palla a nessuno ma prova sempre a tirare in porta questa è una grande differenza che nessuno come al solito vi dice perché la stampa italiana ha piacere a gettare fango su un giocatore della lazio e quindi così è capitolo david luiz niente di nuovo al momento non credo che verrà il giocatore alla lazio detto questo qualcuno mi ha scritto ma si può fare spazio sì la lazio da qui a gennaio può fare due cambi quindi se dovesse acquisire luiz potrebbe uscire vavro e essere inserito il brasiliano ma non sono così convinto che venga inserito david luiz l'ultima cosa è su kostic che è stato messo ufficialmente fuori squadra dal dal frankfurt eintracht frankfurt una mossa sorpresa perché hanno detto che il giocatore si era comportato bene un bravo ragazzo eccetera può la lazio andarlo a prendere a gennaio volendosi anche se avendo preso zaccagni non credo che la lazio abbia bisogno di un altro esterno d'attacco adesso per cui magari settembre l'anno prossimo potrebbe essere un ritorno di fiamma ma a gennaio almeno che non esca un esterno d'attacco la lazio da questo punto di vista è messa bene poi dipende magari luca romero e raul moro non convincono sarri e allora la lazio potrebbe tornare a sul mercato e prende un altro esterno ma al momento dico assolutamente grazie a tutti a domani